Domenica 31 maggio la cittadina di Cerignola nel Foggiano sceglierà il suo sindaco. Si andrà alla vittoria al primo turno oppure al ballottaggio. Con speciale news una corsa minuto dopo minuto sull'evolversi della situazione nelle amministrative del comune Ufantino. A partire da lunedì, oltre ai tradizionali appuntamenti con il telegiornale, ci saranno appuntamenti speciali con elezioni 2015. Per raccontarvi le attese, speranze, gioie e delusioni dei candidati e anche dei consiglieri comunali che si sono presentati a questa importante tornata amministrativa. Speciale news elezioni 2015, lunedì primo giugno a partire dalle 8.30.